Come vi abbiamo fatto notare un servizio precedente sull'utilizzo improprio del parcheggio sotterraneo di via Aldrilli, siamo tornati per verificare se il problema è stato disolto. Purtroppo l'auto abbandonata è semplicemente stata spostata da un posto auto a un altro. Secondo noi non è così che si risolvano i problemi. Ci aspettiamo che il problema venga affrontato in modo più serio per evitare che questo parcheggio venga scambiato per una discarica auto da adottamare. Torneremo tra 15 giorni a controllare.